Buon Natale maledetti poliziotti. Il messaggio campeggia su Facebook sopra la foto di un'auto della polizia completamente distrutta. In un incidente avvenuto da pochi minuti. Siamo sull'A1, all'altezza di Piacenza Nord, nel terribile schianto contro un tir. Uno degli agenti a bordo della volante, Giuseppe Beolchi, ha perso la vita. M. B. Queste le iniziali dell'autore del vergognoso post. Probabilmente viaggia nella carreggiata opposta quando intravede le lamiere bianche e blu. Accartocciate. Prende il cellulare e scatta per poi esultare per la tragedia sul social network. La polizia postale ha rimosso il post dal social e ha individuato M. B. Anche grazie alle tantissime segnalazioni arrivate sul profilo Facebook della polizia. Agente Lisa. Si stanno ora valutando eventuali ipotesi di reato di cui potrebbe dover rispondere. Altro su MSN. Incidente in Messico. 11 turisti morti. Anche italiani a bordo. Corriere TV. Sponsorizzato. Maggiore maggiore scarica Office 365 e ottieni 12 mesi al prezzo di 10 mesi. Acquista maggiore maggiore.